Sono le 10 e 41 minuti in questo preciso istante, bentornati ad almeno due pagine al giorno e come detto in sommario e tempo insomma nella seconda parte della nostra rassegna stampa culturale quotidiana di interviste. Per me è un onore e un privilegio poter dare il benvenuto su RBE a Marcello Corti, al maestro Marcello Corti. Buongiorno Marcello, ben arrivato da noi, buongiorno. Buongiorno Francesco, grazie per l'ospitalità. Intanto davvero Marcello grazie a te per la disponibilità perché insomma in questo tempo che abbiamo a disposizione vogliamo provare a raccontare il più possibile della, diciamo di una multiforme attività di cui abbiamo in realtà nei mesi scorsi, lo facciamo periodicamente, raccontato qualcosa perché abbiamo raccontato il Siu Sound Film Festival e abbiamo raccontato anche il film che ha vinto diciamo un premio prestigioso all'interno del Siu Sound che riguarda la colonna discografica a 1940 di cui parleremo anche se sei d'accordo e abbiamo anche incontrato Enrico Gabrielli prima di Natale in cui abbiamo parlato del suo disco però abbiamo parlato anche di 1940 per cui come dire oggi ti seguivo un po' da tempo devo dire la verità e quindi sono molto contento che tu oggi abbia tempo di raccontarci anche un po' della tua attività perché tu sei direttore d'orchestra, sei divulgatore, sei scrittore e fai direttore degli esecutori di metallo su Cart Ensemble ma intanto io vorrei cominciare innanzitutto forse dalla fine ma non so se dalla fine perché ti seguo anche come divulgatore anche sui canali social della cultura e della musica classica se vogliamo. Volevo partire da questa domanda che probabilmente è una domanda marzulliana però insomma mi scuserai per questo ma oggi diciamo nel 2024 quanto è complicato o è facile raccontare la musica classica utilizzando lo strumento dei social media. Intanto ancora grazie. È una domanda difficilissima a cui una quantità innumerevole di direttori artistici, marketing strategist e una serie di figure professionali del settore specifiche del settore stanno cercando di rispondere. In verità non c'è un trucco, non c'è un segreto, c'è solo una quantità infinita di tentativi qualcosa va a buon fine e qualcosa no. Nel mio piccolo io credo che il concetto di influenzare non si possa applicare alla cultura. Nel senso che la vera influenza è la formazione, la vera influenza è l'educazione e quindi non ci sono filmatini sempre più brevi che vengono incontro alla sempre più breve attenzione del pubblico. È la chiave per catturare il nuovo pubblico, formare il pubblico. Certo va detto che la cultura è intrattenimento e quindi in una certa maniera bisogna intrattenere e in questo i micro video che adesso sto pubblicando o i video anche un pochettino più lunghi che pubblicavo ai tempi su piattaforme un pochettino meno ermetiche perché i micro video possono intrattenere e allo stesso tempo educare. Ecco forse è questo l'equilibrio che i professionisti e noi stessi, noi stessi musicisti facciamo fatica a trovare. Forse siamo tutti un po' abbiamo tutti un po' un pregiudizio sulla cultura e quando ci mettiamo a parlare di cultura ci dimentichiamo che l'intrattenimento fa parte anche di tutta questa sfera forse alta ma è fondamentale che ci sia questo collegamento. Io lo faccio in un modo abbastanza anarchico facendo degli esperimenti senza nessun tipo di metodo e in verità con un obiettivo molto semplice che è quello di raccontare quello che con l'Orchestra Sinfonica Junior di Milano combino quindi l'idea è quella di raccontare delle piccole storie poi magari qualcuno qualche contenuto va meglio qualche contenuto va peggio e il risultato è che la gente poi viene anche a sentire i concerti però è una conseguenza dell'intrattenimento e non è l'obiettivo principale. L'educazione avviene in un altro luogo in un altro spazio e sicuramente in un altro tempo che è diverso dai 30 secondi che si vedono su Instagram. Esatto mi piace moltissimo tra l'altro hai citato l'Orchestra Sinfonica Junior a Milano ciò che è scritto quando si arriva sulla tua pagina Facebook per esempio. Sono un direttore d'orchestra diverso e si coglie anche come dire seguendoti che in realtà tutto è tranne che ingessato il tuo lavoro ed è appassionante anche per chi immagino non sia assolutamente diciamo formato come dire su questo genere di contenuto culturale che è anche la musica classica perché se provo anche a raccontare anche ai nostri spettatori ai nostri ascoltatori anche sul canale 87 digitali terrestri oppure in streaming su RBA oppure se ci ascoltate in FM in Liguria ma anche in Piemonte questo per dare un po' lo spettro diciamo anche di chi da dove arrivano le nostre frequenze e direttore degli esecutori di metallo su Cart Ensemble che in realtà è tutto tranne che un'esperienza musicale ingessata ne abbiamo parlato qualche tempo fa anche con Enrico Gabrielli è un'esperienza affascinante realizzata appunto anche oltre a Enrico Gabrielli con Sebastiano De Gennaro e Francesco Fussaro con la tua direzione che vuole che ha come scopo cosa in particolare se posso chiederlo soprattutto per chi non conosce non è avvezzo come dire al vostro al tuo lavoro insomma bene esplorazione l'esplorazione di qualsiasi forma di espressione musicale ovvero qualsiasi specifico qualsiasi forma no perché il qualsiasi e l'infinito diventa a un certo punto indeterminato ma delle esecutori di metallo su carta i 1940 si curano di musica scritta o comunque di segno grafico che diventa suono senza altri grossi limiti quindi si rivolge sia alla musica alla musica scritta del passato che alla musica scritta del presente quella del futuro ovviamente rimane ancora rimane ancora da scrivere quindi quella è esclusa con forse come 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 centro del pensiero la curiosità la curiosità e l'entusiasmo queste sono le due caratteristiche attorno a cui ruota probabilmente 19 40 dico probabilmente perché sono quattro cervelli in un equilibrio in un equilibrio instabile quattro cervelli che seguono i progetti che ogni quattro mesi diventano un cd che arriva nelle case degli abbonati sono quattro cervelli che ogni volta cercano di entusiasmarsi su della musica nuova della musica che può prima sorprendere noi stessi e puoi sorprendere gli ascoltatori quindi si tratta sì di musica contemporanea ma anche di musica che attinge da altri universi all'universo pop rock all'universo cantautoriale all'universo delle colonne sonore quindi della musica applicata non ci sono etichette che fanno da limite c'è solo il tempo che ci fa da limite quindi la quantità di progetti che possiamo realizzare e finalizzare in un anno è una collana discografica leggo scusami se ti interrompo marcello anticlassica insomma in che senso anticlassica perché non è un'etichetta insomma ci tenete anche ad escludere diciamo a sgombrare il campo non è un'etichetta è una collana discografica anticlassica sì vuol dire che è una raccolta di cd che si dedicano a proporre musica che non è ancora diventata classica questa è la prima accezione o la un approccio che non sia quello classico e accademico alla materia sonora e quindi ad esempio le nostre registrazioni sono spesso post prodotte è una cosa che un musicista classico puro non farebbe mai noi tagliuzziamo post produciamo aggiungiamo riverbri aggiungiamo suoni aggiungiamo elettronica insomma costruiamo ed elaboriamo le registrazioni in un modo forse più vicino a quella della musica della musica pop rock a quello dell'universo da cui enrico gabrielli in cui enrico gabrielli sguazza ad esempio da 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 decenni queste sono forse le due anime quindi repertorio non ancora classico e approccio sicuramente non classico sono i due i due poli all'interno di cui ci muoviamo intanto citavamo anche poco fa il see you sound film festival che tu sei stato anche a torino poco tempo fa perché c'è stata la decima edizione del see you sound festival che noi avevamo raccontato anche con alessandro battaglini il vice direttore che ha attribuito a 19 40 un premio insomma per il miglior film italiano no con una motivazione molto interessante per la volontà di esplorare attraverso il ritratto dei protagonisti il valore della cultura della musica intesa come espressione di curiosità che annulla confini generi metodi e regole un film realizzato documentario da roberto del voi che via insomma via raccontato diciamo nel vostro fare diciamo e vivere la colonna discografica quotidianamente è un film on the road da quello che ho capito non l'ho ancora visto ma mi è bastato vedere degli spezzoni in rete per capire che insomma c'è c'è tanta vita quotidiana dentro questo lungometraggio no marcello sì è un è un è un racconto di un viaggio che roberto del voi ha fatto seguendoci seguendo tutti e quattro francesco seba enrico e in parte minore anche me in in durante i concerti durante le prove durante le registrazioni per un anno ci ha seguito con la sua videocamera durante queste riprese ha avuto modo di fare delle interviste molto ampie molto approfondite su cos'è la musica cos'è 19 40 su cos'è ha scavato in profondità su sui singoli progetti mentre enrico seba e francesco erano proprio in macchina e tutti parlavano delle registrazioni parlavano delle idee parlavano dei mentre appunto l'asfalto scorreva sotto le quattro ruote dei dei nostri dei tre dei tre colleghi di 19 40 e roberto ha fatto un lavoro bellissimo perché ha costruito una storia costruito un racconto ma allo stesso tempo è riuscito a a far venire fuori a mettere ordine in quello che ai nostri occhi è un progetto estremamente disordinato cioè noi che viviamo all'interno di 19 40 spesso ci troviamo a dire ok cosa stiamo facendo dove stiamo andando e chi siamo le domande proprio leggere che ha risolto lui vedendoci dall'esterno e quindi ha raccontato i nostri personaggi e alla fine anche le nostre persone perché lì non c'è nessuno che recita ma siamo proprio siamo proprio noi inquadrandoci all'interno di qualcosa che è molto più strutturato rispetto alla nostra percezione e in più ha raccontato una storia ha raccontato tutto un percorso ha raccontato le difficoltà ha raccontato le fragilità anche personali non non familiari ma proprio di carattere dei singoli e ha fatto un lavoro proprio bello e al si sa un del film di roberto è stato premiato secondo me anche per questo aspetto e cioè per essere riusciti riuscito a abbattere quel muro che c'è tra chi fa musica e quindi si fa vedere sul palco e l'umanità di chi ascolta in verità i problemi i problemi delle nostre vite emergono emergono in modo abbastanza abbastanza evidente e quindi ci ha trasformato in esseri umani e ci ha avvicinato probabilmente ha avvicinato anche la nostra musica alla stessa maniera al pubblico al pubblico che dalla musica accolta contemporanea o dalla musica anticlassica o classica o che è di solito è molto distante quindi ha fatto un'operazione molto intelligente e molto riuscita marcello parliamo anche di cultura bandistica perché insomma leggevo tra l'altro invito anche i nostri ascoltatori e spettatori a dare un'occhiata a visitare il sito marcellocorti.it perché ci sono diversi versanti che possono interessare a per esempio la cultura bandistica leggo che sta per partire partirà in estate questo stage ambima 2024 rivolto a ragazzi e ragazzi fino a 19 anni se vuoi darci anche delle indicazioni perché ambima sta per associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome anche qui mi viene da fare una domanda insomma è una cultura che a me interessa anche molto però sembra anche questa forse un po' fuori tempo ed è bellissimo come dire questo no la cultura bandistica nel 2024 raccontaci se sei voglia marcello allora io sono nasco nelle bande e nel senso che il io sono diplomato in direzione specializzato nella direzione di fiati al conservatorio di lugano con studiato con franco cesarini il mio percorso sbagliato di formazione sbagliata tra virgolette parte parte dalle bande parte da una laurea in economia poi continua con le bande e attraverso le bande attraverso la musica fatta da non professionisti piano piano ho cominciato a lavorare continuando a studiare naturalmente a lavorare con la musica la musica fatta anche con i professionisti quindi ho cominciato a lavorare con l'orchestra e con l'ensemble eccetera eccetera ma tutto parte parte dalle bande che sono una creatura effettivamente strana perché sono oggi sono delle associazioni culturali che vivono in territori con un legame molto forte con un territorio perché è fatto di le bande sono fatte di persone che lavorano in una realtà in un paese in una città in una zona regionale delimitata che devono e queste persone devono affrontare le sfide di qualsiasi associazione culturale anche grandissime quindi devono avere un pubblico devono coltivare il proprio bacino di utenza i propri i propri propri suonatori i propri musicisti una volta si chiamavano musicanti si possono chiamare musicisti e quindi sono delle associazioni che combattono per mantenere viva una una quella che una volta era una tradizione cercando di affrontare le sfide della modernità trasformando quindi la tradizione in qualcosa di diverso in occasione di formazione in ricchezza per il territorio allo stesso tempo di restituzione al territorio di un'attività fatta dagli abitanti stessi di quella città quel paese sono delle creature veramente strane sono delle creature fragilissime che tanti direttore su tutti riccardo muti protegge a spada tratta in quanto primo primo motore di avvicinamento alla musica di quelli che oggi sono grandi professionisti degli strumenti a fiato in giro in giro per il mondo e sono creature le bande sono creature che gli danno un sacco di dolori e un sacco di soddisfazioni dal 2011 ho cominciato a lavorare con la banda sociale meratese che dirigo ancora adesso è con grande passione grande entusiasmo e grande voglia di fare e grazie alle bande ho potuto ho avuto modo di dirigere tutti i giorni della mia vita sostanzialmente sono uscito mi sono diplomato in conservatorio e da lì ho fatto da lì ho cominciato veramente a studiare direzione nel senso che si dice uno diventa bravo a studiare a diventa un musicista vero se fa diecimila ore di studio del pianoforte trovatemi un direttore che a 25 30 anni riesce a fare diecimila ore di podio è impossibile con gli orchestre di professionisti perché sono dei costi altissimi poi col tempo invece le bande per me sono state ehm quel laboratorio quell'officina che mi ha permesso di raggiungere quel numero tale di ore da potermi considerare pronto per fare il direttore cioè mandare insieme un'orchestra di professionisti è estremamente facile loro suonano da soli provate a mandare insieme la banda di la banda di brivio la banda di caslino con cui ho lavorato felicemente per 6 7 anni ho anche la banda di merate lì sono viene veramente messo alla prova un direttore quella è una vera palestra le bande le orchestre di non professionisti e quindi io sono estremamente riconoscente al mondo delle bande e combatto ogni giorno insieme ad ambi ma insieme alle associazioni con cui collaboro per far passare trasmettere questa questa passione ai ai giovani ai ragazzi giovani anche ai non giovani ma ma in particolare con lo stage ambi ma con lo stage ambi ma lombardia ehm mi trovo con i giovani a fare musica e questo campus che sta per cominciare stage ambi ma lombardia punto it mi pare sia il sito è un'esperienza bandistica entusiasmante che si rivolge a ragazze e ragazzi dai 10 ai 19 anni dove ogni anno ci troviamo a fare il grande repertorio bandistico eh abbiamo fatto Wagner abbiamo fatto Eric Whitacre abbiamo fatto Franco Cesarini abbiamo fatto grandi compositori e anche piccoli compositori con quell'approccio che è quello ehm tipico delle associazioni bandistiche di accoglienza e di vicinanza al giovane musicista ma allo stesso tempo tipico delle grandi istituzioni musicali quindi attenzione alla musica attenzione al dettaglio e attenzione a il rispetto del dato musicale quindi è un bel equilibrio che si è creato negli ultimi anni e io aggiungerei allora insomma siamo in coda anche alla nostra puntata ma questa bellissima conversazione attenzione al lavoro di Marcello Corti c'è un sito marcellocorti.it ci sono i canali social per seguire l'attività del maestro Marcello Corti con anche gli esecutori di metallo su cart ensemble e della collana discografica 19 e 40 dall'orchestra sinfonica junior e molto molto altro intanto Marcello grazie davvero per essere stato ad almeno due pagine al giorno grazie ancora buon lavoro e buona giornata grazie a te Francesco scelta grazie a te Francesco grazie a teres